Con un totale di 7 punti complessivo si classifica Borgo San Bernardo Al sesto posto, con un totale di 8 punti complessivo, Borgo Nuovo Al quinto posto E dispiace perché non c'eravate nella gara dei cavalli, ma un onorevole quinto posto con 9 punti per Sant'Antonio Poi abbiamo un exequo al terzo posto, con 10 punti, Romanisio e Borgo Piazza Il secondo classificato ha ottenuto 11 punti, il primo classificato ha ottenuto 14 punti Vince il paglio 2018 disegnato da Franco Blandino Borgosalice Chiediamo ad Abbaia Badessa di Borgo Sanice di raggiungere la nostra postazione I colori bianco e blu